La piazza di un'esercitazione È un'esercitazione di cui vi dimenticare è l'esercitazione per la caggianuta Bisogna tenere d'occhio la 22 La peccata Forse è accaduto di mandarla via Dai, non fare la pegrona Oggi e domani la biblioteca vivente Vorrei il vegetariano Ma tu ci credi alla rinconizzazione? C'è un'altra consuetudine in India Le ragazze non devono mai guardare i ragazzi negli occhi oppure li devono sposare Ma chi se ne frega dell'India? Io sono italiana Sono nata in Italia Io capisco che voi avete la vostra religione Ma se venite qui a lavorare dovete accettare la nostra cultura Non mangiare la carne È una tradizione Bisogna superarla Qualche volta bisogna accettare dei compromessi Dobbiamo pensare al nostro futuro Quando il sole è tramontato Quando è tramontata la luna Quando il fuoco è spento Di quale luce dispone l'uomo Si Mi 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 Si Grazie a tutti.